la porno star marina smeraldi cari amici la porno star martina smeraldi la porno star martina smeraldi anche lei si affretta nella sua corsa verso la valle della disperazione che è la miseria chi cade nella valle della disperazione è destinato e destinato destinata poi ad andare a mangiare un piatto di minestra e alla caritas per fortuna che c'è la caritas ero così freddi ero così freddi che ci presenta martina smeraldi martina smeraldi l'ennesima l'ennesima girl che tenta la fortuna facendo la porno star non basta non basta ciò che è capitato ai rona star la cicciolina la prima porno star italiana che dovrebbe essere ricca sfondata e invece la povera cicciolina non fa altro che piangere miseria dalla mattina alla sera non basta non basta ciò che è capitato a valentina nappi che aveva anche anche lei tentato la 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 fortuna facendo la porno star poi si è ritirata ed ora fa fa la fornaia fa il pane ed è molto meglio che faccia il pane il pane e poi non basta non basta ciò che è capitato alla bella bella giovane yuki con yuki con che aveva cercato la fortuna andando in giappone andando in giappone ha fatto dei video porno ma poi i registi volevano 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 che 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 lei lei yuki con facessi dei video con doppia penetrazione doppia penetrazione e yuki con l'ha voluta la doppia penetrazione capito per cui si è ritirata dal porno yuki con tanto bella tanto giovane tanto sensibile tanto dolce yuki con si è ritirata dal porno ed ora fa la escort la escort cioè riceve i clienti in casa riceve in casa non è coltretta a fare la doppia penetrazione come suggeriscono i potenti registi del porno ma quanti esempi quanti esempi a rocco si freddi rocco si freddi la valle della risperazione che è che è il luogo della miseria e chi casca nella valle della risperazione poi è costretto ad andare a mangiare un piatto di minestra alla carita il paio fortuna che c'è la carita guardate che questa notizia di del pregiato rocco si freddi che presetta ma martina smeraldi me l'ha mandata l'amico simone casa grande simone casa grande perché simone casa grande di certo vuol sapere qual è il mio parere relativamente a tale video relativamente a tale video caro simone caro simone le mie non sono valutazione di natura etico morale no 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 sono valutazione di natura economica economica chi fa la porno star chi fa la porno star va in miseria va in miseria va fa una vitaccia doppia penetrazione tutte le mattine un clisterino alle 4 del mattino perché si deve essere pulite molto pulite poi psicofarmaci estetisti spese varie per cui alla fine non ti resta manco un quattrino non tenesta vieni sfruttata vieni spremuta come un limone il limone poi buttata via poi magari vai a finire a fare la escort ma anche nella escort quella della escort è una vitaccia perché la escort mica le può chiamare per strada i clienti capito e poi oggi c'è una libertà sessuale tale che soltanto dei pirla dei pirla pagano per fare sesso capito i pirla pagano per fare sesso va bene cari amici dici rocco si freddi caro mi raccomando rocco si freddi compra una copia di questa opera storico mitologica e leggila e poi fammi sapere come come cosa cosa ne pensi rocco si freddi a martina martina sberaldi a martina sberaldi che brutta strada che hai preso va bene va bene cari amici a tutti tanti cari saluti da serafino massoni